Geremias Rodriguez si scusa con la Izzo, perdonami, mi sento male per il tono usato durante la lite In queste ore, nella casa del grande fratello Vip che è stata una cesalite tra Geremias Rodriguez e Simona Izzo. Il fratello di Cecilia si è scagliato con fuga contro la regista, dopo aver ascoltato l'ennesima ramanzina Dopo la sfuriata, il giovane è tornato su suoi passi e ha chiesto scusa per il tono con il quale ha espresso la sua posizione. Il chiarimento tra Geremias Rodriguez e Simona Izzo Geremias Rodriguez ha chiamato in disparte Simona Izzo e le ha fatto le sue scuse. Ti chiedo scusa, io rimango male. Non mi piace fare così. Lo so che c'è modo e modo di dire le cose e chiedo scusa per quello, poi le cose che ho detto e mi perdoni per i modi? A prescindere da quello che ho detto, mi sento male per i modi. Mi sentivo di chiederti scusa ancora. Simona Izzo ha accettato le scuse di Geremias Rodriguez. Simona Izzo ha accettato le scuse di Geremias, spiegando di aver compreso cosa ha generato la sua furia. A me quello che dispiace è che tu abbia parlato di falsità. Posso dirti sinceramente che mi è stato chiesto ma come mai litigate tanto? Questo mi è molto dispiaciuto perché abbiamo fatto la figura del gruppo non coeso. Certo che ti perdono, quando mio figlio perde la testa, mi dice anche di peggio. Ho capito che hai reagito con passione e foga perché pensavi di aver subito un tradimento, ma non ti ho tradito. I motivi della lite tra i due effini. A far infuriare Geremias Rodriguez sembra sia stata una ramanzina fatta loro da Simona Izzo davanti agli inquilini della casa agiata. Così, il giovane l'ha attaccata. Con i tuoi consigli mi ci pulisco il cuo, a me non mi comanda nessuno. Dal momento che tocchi noi, io ti salto addosso. Cecilia Rodriguez, però, è intervenuta invitando il fratello a usare toni diversi. Con le scuse di Geremias, la questione sembra essere stata archiviata. .